allora lui in questo momento lo riferisco a quello con le corna di cui non nomino il nome perché non vale la pena proprio lui ha la forza di annebbiare la mente solamente la mente perché tutta una tutta una proiezione la proiezione siamo noi e il nostro viaggio il nostro sogno la nostra direzione le possibilità che possiamo dare al nostro sogno e al nostro viaggio quindi con le caratteristiche che vogliamo che che non questo nostro viaggio abbia quindi noi viaggiamo abbiamo una come dire veniamo entriamo in questo viaggio con una attrezzatura di base quindi con degli strumenti ognuno ai suoi percentuali in percentuali diversi e questi quattro strumenti fondamentali riguardano i quattro modi modus vivendi diciamo così che si possono trovare nella nostra esistenza così come vedendola come esperienza e questi quattro modi fondamentali sono quattro atteggiamenti vitali diversi tra loro però abbiamo bisogno di un po di ognuno di questi quindi questi atteggiamenti vitali sono di quattro tipi hanno quattro nomi diversi c'è l'assalto che la capacità di andare incontro agli ostacoli di affermare la propria identità nella vita quindi andiamo avanti lottiamo per un ideale facciamo cerchiamo di guadagnare qualcosa ma anche cerchiamo di afferrare qualcosa e questo ci serve nella nostra esperienza un po di assalto ci serve poi c'è l'attesa l'attesa la capacità di valutare quindi di stare fermi valutare guardare osservare farsi un'idea cercare la strategia più opportuna e poi agire in seconda battuta poi c'è la resistenza la resistenza è un atteggiamento vitale che ci fa stare sempre allerta quindi sempre in tensione questo serve perché oppone forza forza nella vita anche questo serve un po poi c'è la cessione la cessione rappresenta la capacità di amare cessione lo dice la parola quindi la capacità di aprirsi verso gli altri la capacità di includere gli altri nella propria esistenza quindi di vederli entrare interazione con gli altri la cessione è la bontà ma la cessione è anche doversi costruire un carattere molto forte su un temperamento appunto di cessione che chiaramente se non se non costruisce un carattere forte tende a cedere fino a farsi sopraffare quindi noi siamo fatti di un po di questi quattro modus vivendi che chiamiamoli così siamo venuti per equilibrare questo queste quantità no ognuno è in percentuale qualcosa di diverso dall'altro e quindi tutto quello che si sviluppa dentro di noi sono una serie di considerazioni fatte momento per momento nelle nostre esperienze di vita che ci portano a farci un'idea di quello che stiamo esistendo no appunto di quello che stiamo esistendo perché di fatto ci facciamo un'idea in base alle nostre esperienze alle nostre convinzioni che si creano strada facendo alla nostra duttilità che può essere lasciata andare oppure cioè svilupparsi oppure irrigidirsi alla nostra incapacità di andare verso gli altri per vari motivi perché di fatto poi non andare verso gli altri perché devi difendere te stesso quindi sei come dire in scompenso oppure poi non andare verso gli altri perché hai paura puoi non andare verso gli altri perché ti senti non compreso per tanti motivi quindi queste nostre convinzioni che noi abbiamo creato durante il tempo lasciano degli impronte nel nostro modus vivendi perché il nostro modus vivendi il preponderante tra i quattro perché ce n'è uno che diciamo è più alto rispetto agli altri è quello con cui nasciamo cerca di con i suoi strumenti di acquisire alcuni altri modus vivendi perché deve tenersi in equilibrio e quindi formula dei pensieri crea dei punti di vista no che sono sempre comunque molto relativi e tutto questo viaggia nella mente è un gioco che si svolge nella mente ritornando a quello famoso con le corna lui può solo modificare lo stato della nostra mente perché fisicamente non può fare niente questo vuol dire che se noi riusciamo a modificare lo stato della nostra mente tanto da essere diciamo così diretti verso un luogo dove ci sono prima di tutto delle regole e per regole intendo le regole etiche del maestro spirituale senza trascendere queste regole avendo il coraggio di tirar fuori quelle parti di sé no che sono state frustrate dall'esperienza della nostra esistenza allora noi possiamo cambiare lo stato delle cose perché lui può agire solamente nella mente nello stato della mente ed è per questo che tutta questa bella pantomima è stata orchestrata soprattutto nella comunicazione nei mezzi di comunicazione nel mainstream e tutto quello che è perché viaggia tutto nella mente quindi parte dalla mente e ci autodemoliamo perché siamo nella mente sbagliata quindi noi in questo momento dobbiamo sforzarci di passare dalla mente sbagliata che ci attanaglia alla mente di Dio e la mente di Dio è intesa come il punto di arrivo in cui l'essere umano si rende conto in estremis che non è solo quella cosa lì che ubbidisce a regole dettate da dementi senza anima e cosa fa? prende coscienza di questo sta cadendo nel burrone prende coscienza di questo passa dei momenti terrificanti perché prenderne coscienza significa sentirsi all'ultimo stadio quindi prendere in mano la situazione significa rendersi conto che il prossimo passo è la nostra morte il nostro annullamento come razza come individuo come esperienza una piccola esperienza perché seppur piccola nell'universo profondo c'è questa terra dove c'è qualcuno che fa esperienza ha deciso di venire qui per fare esperienza per valutare alcuni aspetti dell'essere Dio dell'essere di Dio quindi una minima parte di Dio che fa esperienza e che deve riconoscere e che deve riconoscere se stessa per riuscire a di nuovo a riacquisire la sua forza originaria come pensiero nella mente ripeto nella mente per riuscire a sconfiggere chi può demolire solamente la tua mente perché agisce così perché nel pratico non può fare niente se le nostre menti cambiassero domani e capissero l'inganno allora cioè immediatamente il suo gioco il suo come dire ologramma perderebbe di struttura quindi dobbiamo sforzarci di riuscire a capire quali sono i limiti che ci siamo autoimposti in questa nostra esperienza terrestre di questa vita e sono sempre limiti emotivi sempre metterli a fuoco significa fare uno sforzo di guardare se stessi da un altro punto di vista cioè guardare se stessi per esempio con la scrittura la scrittura rivela gli echi assonanti e dissonanti dell'anima quindi riuscire a guardarsi obiettivamente da fuori e capire quali sono quei meccanismi che ci stanno portando via energia quali sono quelle abitudini dell'essere che crediamo così vere e che poi in realtà non lo sono affatto sono punti relativi in un universo infinito noi siamo in cammino stiamo dipingendo il nostro quadro la nostra tela stiamo osservando la distruzione di tutto ciò che è etico di tutto ciò che rappresenta Dio e questo è perché qualcuno vuole portare qualcosa dalla sua parte è serpeggiante in questo momento questa energia ci dà la sensazione di non essere di non darci una via di fuga in realtà forse la via di fuga apparirà nel momento in cui proveremo a pensare anche per una frazione di secondo che lei esista e per fare questo bisogna educare l'essere umano a fermarsi e a guardarsi dentro come non ha mai fatto come forse non gli hanno mai insegnato a fare o come non vuole fare quindi il momento è transitorio e in questo come in ogni momento di transizione ci saranno quelli che non sono riusciti a farlo che forse vorrebbero farlo ci sono quelli che invece non hanno mai affrontato il pensiero e quindi non gli interessa niente di fare nulla stanno bene dove sono e poi ci sono quelli come noi che in realtà sentono percepiscono viaggiano su altri binari sono considerati pazzi visionari ma paradossalmente sono quelli che sono più immersi nella natura dell'universo perché l'universo è visionario l'universo è straordinario quindi ognuno sceglie il suo fiume sul quale viaggiare con la sua zattera con la sua barca con la nave veloce ma quello che conta in tutta questa miriade di possibilità è capire che lui agisce solamente e può agire solamente nella mente nelle nostre convinzioni obsolete nel fatto che siamo radicati nella nostra comodità che preferisce mettere in discussione la propria vita che approfondire no e quindi siamo nella torre di babele no siamo nella matrix più assoluta una matrix che arranca ma non si rende ancora conto è come se fossimo in uno tsunami un'onda gigante che si sta caricando per poi trasformare tutto quello che raggiunge quindi questa sensazione di alta allenanza di a volte di disperazione a volte di distruggimento a volte di menefreghismo a volte insomma fa parte di una barca che è senza timone in questo momento e quindi ognuno di noi cerchi di mantenere l'equilibrio anche se è difficile anche se siamo messi alla prova ma soprattutto lavori su questo concetto che questo qui l'innominabile lavora nella mente e può fare solo questo nel momento in cui gli togliamo la mente crolla il palco e così sia che 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 che